La mia lotta per la discarica, per farla chiudere, chi la porterà avanti voi, i commissari? E' forse uno dei motivi per cui mi hanno buttato fuori dal comune è quello perché un nemico principale della discarica si chiamava e si chiama e si chiamerà fin quando avrò vita e salute Nino Di Guarda. Anche questo va messo in conto e quel giornalista pregiudicato è condannato, scoperto che siamo sinuco della morte, culeghista, amico della discarica, dove i figli lavorano nella discarica, dove l'hanno visto a pranzo, fu sinuco della morte e il presidente dell'OICOS. Tutto per uccidere Mr. Bianco, per farlo morire insieme alla spazzatura, io mi sono battuto, mi botterò e questa è la battaglia della vita, della mia vita e di quella della mia comunità.